Giornata intensa questa. Abbiamo iniziato con il dottor Colao e con alcuni componenti del comitato degli esperti con cui abbiamo discusso il loro piano che ci ha consentito, è stata un'ottima base per consentire al governo di poter elaborare il piano di rilancio che oggi avete visto pubblicato un po' su tutti i giornali. Poi abbiamo incontrato i rappresentanti delle associazioni sindacali, è stato un incontro intenso perché abbiamo voluto coinvolgere quante più sigle possibili. Adesso la giornata in realtà non è finita perché sono lì che attendono i rappresentanti degli enti locali quindi dei comuni, delle province, delle regioni e delle province autonome. Abbiamo toccato tanti temi perché i progetti che presentiamo nel piano di rilancio sono numerosissimi e abbiamo in particolare parlato molto di lavoro ovviamente, di occupazione di politiche attive del lavoro, abbiamo discusso alcuni progetti in questa direzione e devo dire che abbiamo esposto la linea e riassunto la linea del governo. Non sarà sfuggito ai cittadini italiani che questo governo ha fatto una scelta sin dall'inizio dell'emergenza. A differenza di altri governi, non voglio far paragoni, ma è evidente che qui noi non lasciamo i lavoratori, non li abbandoniamo per strada, non consentiamo che siano licenziati. È una politica molto onerosa dal punto di vista finanziario perché soltanto nell'ultimo decreto di rilancio, adesso qui i ministri lo sanno meglio di me, ma dovrebbe essere all'incirca 25 miliardi stanziati per perseguire questo obiettivo. In altri paesi hanno già tantissima disoccupazione. Noi qui in Italia non la vogliamo. La vogliamo prevenire, la vogliamo evitare. E questa sera, adesso la ministra Catalfo ce ne parlerà, portiamo in Consiglio dei Ministri proprio un decreto che consentirà a imprese e lavoratori che hanno già accumulato le 14 settimane di cassa integrazione di poter anticipare e accumulare subito ulteriori quattro settimane. Ma il nostro intento è ancora di un intervento più organico. Vogliamo riformare le misure di protezione, gli ammortizzatori sociali e la cassa integrazione. Questa emergenza ci ha posto di fronte a questa necessità di utilizzare uno strumento che si è rivelato però farraginoso. Lo vogliamo riformare e semplificare. Poi oggi, altra novità di giornata, abbiamo la possibilità già di richiedere online i contributi a fondo perduto. Questo riguarda piccoli commercianti, artigiani, partite IVA, imprenditori, piccoli imprenditori che fatturano sino a 5 milioni di euro, che ha subito danni, perdite, può chiedere contributi a fondo perduto. Non vi preoccupate, non c'è un click day. Avete 60 giorni per farlo. Avrete sino a 40 mila euro di ristoro, ovviamente commisurati alle perdite e ai danni che avete subito. Di queste altre misure abbiamo discusso e anche di un più complessivo piano di rilancio. Vogliamo continuare a lavorare, a confrontarci con tutte le forze produttive, sociali e culturali del Paese. Le giornali sono molto intense, ma anche molto gratificanti. Stiamo lavorando per il nostro Paese, nell'interesse di tutti i cittadini. Ministra Catalfo. Sì, grazie. Una giornata importante, un confronto che è iniziato oggi con le parti sindacali, con i sindacati. Confronto che io avevo iniziato già il 23 febbraio, il giorno dell'inizio dell'emergenza sanitaria, che oggi si è rafforzato, un confronto che porterà un valore aggiunto a tutto quello che sta facendo e farà il governo. Partiamo da oggi. Oggi ci sarà un decreto che darà la possibilità di utilizzare ulteriori quattro settimane finite le prime 14 che sono previste appunto dal decreto rilancio. Questo però dovrà portare comunque, come dicevamo prima, a una riforma degli ammortizzatori sociali. L'avevamo detto prima ancora che iniziasse l'emergenza sanitaria, che il sistema era frammentato, faragginoso. Noi con l'emergenza sanitaria ne abbiamo avuto estrema contezza. Vanno riformati gli ammortizzatori sociali, va fatta una misura che sia non più una politica passiva ma più vicina alle politiche attive del lavoro, che aiuti i lavoratori anche in transizione da un posto di lavoro a un altro, che investa sulla formazione, che tuteli tutti i lavoratori perché come sappiamo gli ammortizzatori sociali esistenti in Italia in questo momento non tutelano tutte le imprese e tutti i lavoratori italiani, ma invece va fatto in modo che sia così. Abbiamo messo già un primo tassello sulla formazione, sulle politiche attive del lavoro, su quanto possa essere importante, possa dare un valore aggiunto al lavoratore e all'impresa, investire in formazione, ce lo dicono tutti, ne abbiamo parlato con l'Europa, l'ha previsto anche la Task Force di Colau, lo prevediamo noi, l'importanza di investire sia nella formazione continua dei lavoratori, sia nella formazione dei lavoratori in transizione ma l'importanza di investire nei giovani, nei giovani che devono inserirsi al lavoro che in questo momento, già prima erano in difficoltà ma ancora di più lo potranno essere in questo momento quindi ancora di più bisogna investire in questo, investire nelle donne, investire nella formazione delle donne, nell'inserimento lavorativo delle donne, nella possibilità per le donne di essere donne imprenditrici cioè di creare lavoro, di creare impresa. Questi sono i tasselli, il contrasto tra l'altro alla contrattazione pirata, la detassazione dei rinnovi contrattuali, il salario minimo orario, lo smart working e iniziare a fare un punto importante sullo smart working, l'utilizzo dello smart working in questo periodo è stato molto intenso nella pubblica amministrazione ma noi abbiamo anche i dati nel settore privato, è stato davvero importante poterlo utilizzare ed è giusto anche che si faccia un punto su questo tema. C'è il tema importante della famiglia, abbiamo già messo in atto il family act, quindi un importante provvedimento che riguarda la famiglia ma bisogna anche puntare su tutto il resto e un punto centrale è quello della disabilità, quindi fare un codice che riguardi la disabilità, che riguardi la non autosufficienza e occuparsi anche di tutte quelle famiglie e di tutte quelle persone che fanno la car giver, cioè che si occupano dei loro familiari perché sono non autosufficienti o sono disabili. Poi un altro punto importante che già stavamo portando avanti è quello sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è importante dare forza a questo, ne abbiamo parlato prima dell'emergenza sanitaria, ne abbiamo continuato ed è stato un punto centrale per gestire la fase 2 con i protocolli di sicurezza sul lavoro, insomma tutti i punti fondamentali e importanti per poter rilanciare il Paese sulla base dell'occupazione, rilanciare le nostre imprese, rilanciare i nostri lavoratori e fare in modo che questa emergenza sia non un'occasione per tornare indietro ma un'occasione di rilancio vero per il Paese. Roberto. Grazie, buonasera a tutti, come è stato ricordato oggi è stata una giornata intensa, abbiamo avuto modo di interloquire col professor, con Vittorio Colau e con tutti i membri del suo gruppo e di ringraziarlo per il lavoro eccellente che hanno svolto, per l'impostazione che è in sintonia con quella che questo governo sta perseguendosi dalla sua formazione, cioè di costruire un percorso di sviluppo investendo in particolare sulla innovazione, sulla sostenibilità, sulla coesione sociale e territoriale, sulla formazione e per le proposte concrete che ci hanno presentato, offerto, sulle quali stiamo lavorando per tradurle molte di esse in pratica e su cui continueremo anche con loro un'interlocuzione nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Molto positivo è stato il confronto con i sindacati che hanno espresso una forte condivisione dell'impostazione che abbiamo presentato del programma di rilancio del Paese, incentrata molto sul rilancio degli investimenti pubblici, sugli investimenti privati, sulla semplificazione e sulla centralità naturalmente del lavoro e della sua qualità, temi su cui il Ministro Catalfo ha appunto ricordato una serie di approfondimenti che abbiamo avuto. Poi oggi è una giornata positiva, importante anche sul fronte dell'attuazione delle misure che ci ha prese perché da oggi, dalle tre, è partita l'operatività del nuovo sito dell'Agenzia delle Entrate per il ristoro a fondo perduto per imprenditori, artigiani, commercianti, agricoltori con un fatturato fino a 5 milioni di euro e si tratta di una procedura molto semplice che è operativa e quindi tutti coloro che rientrano in questa categoria possono fare domanda. Sta andando molto bene, noi naturalmente teniamo le dita incrociate ma come è stato ricordato non è un click day, ci sono 60 giorni per fare domanda ma le domande saranno processate con la massima rapidità e l'obiettivo di arrivare al bonifico entro al massimo 10 giorni e quindi inauguriamo oggi anche questo ruolo dell'Agenzia delle Entrate che per un po' fa anche l'Agenzia delle Uscite, il che è una cosa giusta in una fase come questa. Quindi il nostro obiettivo è quello di saldare anche l'attuazione delle misure che abbiamo preso, la messa a terra di tutte le risorse stanziate, affrontare anche situazioni nuove per cui questo decreto di questa sera è molto importante per continuare nella linea che abbiamo perseguito fin dall'inizio, di non lasciare indietro nessuno, quindi di garantire sempre la protezione sociale a tutti i lavoratori e poi appunto l'attuazione delle nuove misure e la predisposizione di questo grande piano che deve essere analitico, dettagliato e ci deve portare a essere pronti a settembre, vogliamo essere tra i primi paesi europei che presentano un piano ampio e approfondito per l'utilizzo anche di queste risorse importanti che può costituire un'occasione davvero unica di rilancio del paese. Buonasera Presidente, io volevo chiederle dell'attivazione del MES, se è possibile considerare un percorso per un accordo della maggioranza sulla richiesta di accesso al MES e con quali tempi e soprattutto da parte delle opposizioni oggi arriva l'accusa al Governo di voler evitare il voto mercoledì in Senato sulla risoluzione che aveva pronta più Europa con Emma Bonino perché il Governo non vuole impegnarsi fin da ora a dire cosa farà col MES. Per quanto riguarda il mio passaggio che ci sarà mercoledì è un passaggio peraltro che non era strettamente obbligato perché non è previsto un consiglio europeo ma informale sarà quello di venerdì, però come sempre, come altre volte, molte altre volte ho fatto passerò alle camere per informare in ogni caso quelli che saranno ragionalmente le discussioni che avremo al Consiglio europeo informale di venerdì. Da questo punto di vista lei mi chiede del MES, non ci sono novità all'orizzonte rispetto a quello che abbiamo già dichiarato. C'è una discussione, ovviamente un dibattito, ognuno ha le proprie valutazioni. Noi come Governo in questo momento abbiamo detto che la posizione è che non c'è la necessità in questo momento di attivare il MES, non abbiamo questa necessità. Ovviamente dovremmo sempre e costantemente aggiornarci col quadro di finanza pubblica e il Ministro Gualtieri dovrà riferirci alla ragione dell'idea dello Stato sull'andamento. In una situazione come quella che stiamo attraversando, l'abbiamo anche constatato nel confronto che abbiamo avuto con le autorità, anche massime autorità economiche, europee e mondiali, non ci sono delle certezze perché in questo momento l'andamento anche dell'economia è un andamento tra virgolette imprevedibile. Noi ovviamente faremo costantemente di conto. Quello che ho detto è che semmai dovremo fare delle valutazioni in questa direzione, le faremo con il Parlamento, quindi in questo momento non c'è nessun cambiamento rispetto a quella posizione che ha già anticipato. Buonasera Presidente, mercoledì sarà qui Confindustria che oggi lamenta l'assenza di un piano dettagliato, di un cronoprogramma in vista della ripartenza. E anzi si propone lei stessa un piano che sarà pubblicato su un libro anche. Volevo sapere come replica a Bonomi. Vedo che la battuta che ho fatto a una delle ultime conferenze stampa sul Confindustria che non si presenti solo con un piano di taglio delle tasse ha avuto l'effetto che speravo. E cioè quindi hanno preannunciato un piano anche loro, ben venga, non si dica che il governo non ha elaborato un piano, credo che oggi su tutti i giornali erano un po' anticipato. Credo nella versione definitiva. La versione definitiva contiene l'indicazione di 187 progetti specifici. Abbiamo lavorato tanto, quindi il governo non ritiene questa una passarella. Sarà un confronto come lo è stato già oggi, mirato su progetti specifici. Ho chiesto anche a tutti i sindacati che oggi sono sfilati e hanno partecipato a questo confronto con il governo di farci anche pervenire nei giorni prossimi delle osservazioni dettagliate ma sui progetti. Capisco valutazioni sintesi, le abbiamo fatte e le abbiamo condivise, però adesso abbiamo bisogno di suggerimenti, di idee su progetti concreti. Se Confindustria ha lavorato in questi giorni, ha raccolto l'invito del governo nel modo più giusto perché la Consiglio di questa è una competizione virtuosa per il futuro del Paese. Benvengano, li attendiamo. Buonasera Presidente, buonasera Ministri. Presidente, le chiedo a proposito di quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle. Ieri c'è stato un po' uno scontro, botte e risposta a distanza di Battista Grillo, si è aperta un po' la corsa alla leadership e lei, il suo nome, il suo nome è stato è finito dentro. Lei se la sente o è in corsa per una futura leadership del Movimento 5 Stelle e poi non teme che questo dibattito interno al Movimento possa creare problemi all'interno della maggioranza? Guardi, non credo sia opportuno e non mi sento di valutare vicende interne a una delle singole forze politiche che sostengono la maggioranza. Posso parlare per me, questo sì. Io ho un incarico in questo momento che è forse il più sfidante che si è dato di vivere nel contesto politico istituzionale in questo momento storico. Il Presidente del Consiglio. Siamo capitati, non l'abbiamo certo preventivata, ne potevamo farlo. in questa emergenza abbiamo attraversato delle settimane e dei mesi durissimi, li abbiamo vissuti e condivisi con tutta la comunità nazionale, con tutti i cittadini. Adesso dobbiamo cercare di progettare come stiamo facendo e come io dico non dobbiamo ripristinare la normalità, dobbiamo far meglio, dobbiamo essere migliori perché chiaramente in Italia abbiamo sempre scontato negli ultimi anni una bassa crescita della produttività, del prodotto lordo, eravamo sempre, siamo stati sempre al di sotto della media europea. Dobbiamo far meglio e questa è la ragione di questi confronti e questa è la ragione dei 187 progetti che abbiamo elaborato e che vogliamo condividere con tutte le forze sane del paese. Detto questo io ho iniziato questa esperienza avendo altra occupazione, quindi una situazione sicuramente anomala, anomala perché avevo altre occupazioni e non pensavo di poter avere l'onore e il privilegio di ricoprire questo ruolo e di impegnarmi per compiere un servizio così alto e elevato per il paese. Ho una occupazione, lo dico quindi a tutti quanti, coloro che ovviamente elaborano sondaggi inserendomi, inserendo la figura di Conte tra le domande che vengono, diciamo, con cui tutti i cittadini vengono chiamati a rispondere e lo dico ai compagni di viaggio. In questo momento noi stiamo facendo un'esperienza bellissima, questo impegno è già così sfidante, mi assorbe completamente, ho un'occupazione, domani se terminerò questo servizio e ritorno a fare quello che facevo sarò contentissimo, quindi non c'è un problema di uno spazio, di un'occupazione da trovare per il sottoscritto. Grazie. Buonasera, Francesco Saita della DN Cronos, buonasera Presidente. Buonasera. Senta, le volevo chiedere, lei prima ha detto che non lascerete nessuno indietro nel lavoro che c'è questo impegno e lo ha detto anche il Ministro Gualtieri. Domenica vi siete visti per la questione Ilva, ci può dire a che punto sta sul numero degli esuberi, un dato certo su questo, è la prima domanda che ha più a che fare con gli stati generali. La seconda è velocissima invece sull'opposizione, per quanto riguarda questa dialettica che non è mai partita in realtà negli ultimi tre mesi e questa è una peculiarità italiana perché negli altri paesi c'è stata una collaborazione tra le forze al governo e le forze all'opposizione. Quanto pesa tutto questo nella riuscita del vostro piano? Inizio da quest'ultima domanda, a me dispiace molto e lo dico francamente, che l'opposizione non abbia raccolto questo invito e ho già anticipato che Sarò Testardo continuerò a formulare un nuovo invito all'esito di queste giornate. Diciamo che ci sarà anche forse un'occasione in più, un valore aggiunto perché avremo anche suggerimenti e osservazioni che ci vengono a tutto il mondo sindacale produttivo e quindi potrà essere ancora più proficuo confrontarsi con le forze dell'opposizione alle quali dico non vi contaminerete con l'attività di governo, non è questa la logica, non vi preoccupate, potremo anche rimanere con diversità di posizioni, con diversità di idee, però francamente non raccogliere il nuovo invito che farò significa, come ha detto lei, rendere la democrazia italiana anche agli occhi degli altri paesi un po' singolare. Ecco su questo poi vogliono scegliere loro il luogo? Ci mettiamo d'accordo, se questo è il problema è secondario ma addirittura rifiutare il confronto mi sembra veramente rendere il sistema democratico italiano veramente singolare agli occhi del mondo che ci sta guardando. La prima domanda invece era sull'Ilva. Abbiamo fatto una riunione con i ministri competenti, c'era anche il ministro Gualtieri sull'Ilva. Abbiamo esaminato la proposta che ci è venuta da parte dei Mittal, è una proposta che è assolutamente inaccettabile. Adesso abbiamo già individuato quale sarà il soggetto che se ricordate nel piano di coinvestimento rappresenterà la parte pubblica. È in vitalia, abbiamo ovviamente a questo punto già delle nostre risposte alla proposta che sono venute, abbiamo le idee molto chiare, non consentiremo certo che un progetto che per noi rimane strategico del paese possa essere snaturato, alterato e quindi reso assolutamente inidoneo rispetto a quello che è l'obiettivo strategico che ci proponiamo di perseguire come politica economica e sociale. Questo vale anche per gli esuberi che non riteniamo accettabili. Salve. Il Governo sembra credere nel risparmio degli italiani, non a caso dopo il BTP Italia avete lanciato il BTT Futura. La domanda però per molti è il prossimo anno, qualora i conti non dovressero guardare, c'è la possibilità di avviare una patrimoniale? È la prima. E la seconda, tra i progetti che stanno cercando in questi giorni, c'è quello di far tornare Borsa Italiana sotto il controllo italiano, magari con un ruolo di Cassa Depositi e Prestiti. Qual è la vostra opinione a riguardo? Grazie. Io rispondo alla prima e il Ministro risponde sulla seconda. Per quanto riguarda la prima, non c'è nell'orizzonte nostro di quest'anno e dell'anno prossimo una patrimoniale. E uno dei punti di forza del nostro sistema economico è il risparmio privato. Il risparmio privato diventa anche una risorsa come stiamo vedendo e abbiamo visto come stanno rispondendo gli italiani. Quindi dobbiamo cercare di sollecitare ad esempio che questo risparmio si indirizzi verso progetti poi specifici che rispondano bene alla nostra politica economica sociale. Immaginate la transizione energetica finanziata anche con il risparmio degli italiani ovviamente, ma non assolutamente in termini di tassa patrimoniale, ma di coinvolgimento in progetti e quindi di strumenti, di titoli che abbiano anche un indirizzo e una connotazione specifica. Il Governo come è evidente segue con grande attenzione gli sviluppi societari di Borsa Italiana con l'annunciata fusione di London Stock Exchange con Refinitiv e le sue implicazioni. È evidente che noi consideriamo Borsa Italiana un asset strategico dalle grandi potenzialità e quindi seguiamo con molta attenzione questo dossier. Ranucci, Talpress, buonasera. Al netto delle infrastrutture, quali sono i progetti per il rilancio del Sud? Si parla sempre del Sud, abbiamo sempre sentito parlare dell'alta velocità e infrastrutture. Quali sono gli altri progetti? Guardi, il Ministro Provenzano che tutta la mattinata ha preso parte ai lavori, prima che impegni istituzionali lo costringessero ad allontanarsi, ha presentato un po' di tempo fa, a dire il vero c'ero anch'io a Gioia Tauro, abbiamo presentato un piano per il Sud molto articolato. Adesso da quel piano molti di quei progetti sono stati trasfusi in questo piano di rilancio. Ovviamente ci sono progetti, come ha ricordato lei, infrastrutturali, che sono la premessa per quanto riguarda i trasporti, perché il Sud possa crescere. C'è un progetto, gliene dico solo uno, molto ambizioso. Ovviamente l'occupazione e l'imprenditoria femminile, questi sono al centro della nostra attenzione, soprattutto per il Sud, ma dobbiamo in tutta Italia evidentemente colmare questo gap. Però ce n'è uno che è molto sfidante, è davvero una grande scommessa che vorremmo affrontare e costruire, anche tecnicamente non sarà facile, una fiscalità di vantaggio diffusa per tutto il Sud, per poter attirare investitori, per poter attirare imprese e quindi realmente consentire finalmente al Sud di poter correre. E io dico sempre, se corre il Sud, corre anche il Nord, corre tutta l'Italia. Buonasera Presidente, buonasera Ministri. Presidente, il 14 settembre dovrebbe ricominciare la scuola se gli enti locali concorderanno su questa data indicata dalla Ministra. Dopo pochi giorni si dovrebbe andare a votare. Dove si voterà? Nelle aule appena sanificate, dove torneranno i bambini, gli alunni in classe o in altri luoghi, come chiede il Partito Democratico, certamente un problema c'è. Guardi, ne parlavamo adesso di scuola, abbiamo parlato tanto oggi, con i sindacati è stato anche uno dei temi, ovviamente è il centro delle nostre discussioni e è stata coinvolta ed evocata sotto forma di vari progetti per la scuola. Ne dico solo uno, sovraffollamento delle classi. Noi abbiamo ben chiaro l'obiettivo di tornare a scuola, la didattica è in presenza, la didattica a distanza è stata una necessità, il Paese, lo dobbiamo ammettere chiaramente, non era preparato, quindi questa didattica a distanza ha evidenziato anche il divario digitale. Alcune famiglie, dobbiamo riconoscere, alcuni studenti non hanno potuto partecipare attivamente a prendere parte a queste lezioni a distanza. Ecco perché ritorneremo a scuola, abbiamo introdotto una misura per consentire ai sindaci come commissari di procedere con urgenza agli interventi urgenti di edilizia scolastica per consentire il ritorno in sicurezza. Per quanto riguarda le elezioni ho visto che il Partito Democratico ha suggerito di trovare altri locali per lo svolgimento da adibire a seggi elettorali, è una buona idea mi sembra, quindi con la Ministra Lamorgese chiederò subito di trovare dei locali alternativi, perché è chiaro che abbiamo la prospettiva di elezioni, poi anche i ballottaggi, quindi rischiamo veramente di partire e di dover subito interrompere per alcuni giorni e questo veramente non vogliamo consentirlo, quindi cercheremo di trovare delle soluzioni alternative. Non me lo dica in questo momento ma la Ministra Lamorgese che è competente sicuramente con lei lavoreremo e con tutto il governo per trovare delle soluzioni anche alternative. Se Casalino non si arrabbia, Grillo l'ha sentito? No, veramente no. Grazie a voi, buon lavoro.